Andrea Sisti, cancelliere della ciostra del Saracino, quarto anno in questo ruolo dopo una vita fatta da famiglia di Buratto. Che differenza c'è tra il ruolo del cancelliere e quello del famiglio? La differenza c'è, quello del famiglio è un ruolo più d'azione, più adrenalinico, quando parte il cavallo che arriva al Buratto è un secondo, è più, come dicevo, d'azione, mentre quello del cancelliere è più istituzionale come ruolo. Diciamo che come famiglio sei impegnato più durante le prove, durante tutte queste cose qui, durante la settimana, in quegli orari lì. Come cancelliere invece è il tempo che dici, ma prima, ora c'è più tempo libro, no, le prove non le faccio più, no, a casa devi preparare il libro, la notte lo devi disegnare, lo devi scrivere col pennino, devi fare prima con l'apis, poi il tempo va via anche lì. Una passione e una vita per la giostra del saracino, tu hai anche trascorsi da quartierista, da figurante, da musico, anche da musico. Qual è la prima volta che ti sei vestito in piazza? Allora, la prima volta che mi sono vestito in piazza ero con i musici, era l'86-87. Dopo tutti questi anni, dopo tutti i ruoli fatti, qual è quello che, diciamo, ti piace di più o ti dà più soddisfazione, il costume che ti ha dato più soddisfazione a indossare? Quello da famiglia, lo porto da 25 anni, ce l'ho quasi cucita addosso, si può dire. E c'è un aneddoto, un particolare, qualche storia particolare da raccontare nella vita da famiglia. Te ne potrei raccontare tanti. Te ne potrei raccontare quando quel ragazzo che era con me, quando Mauro Viloli, io ho fatto tanti anni anche in famiglia insieme a Mauro Viloli, un grande amico, una grande persona. Quando c'era un ragazzo a istituirlo che prese il buratto in testa. Lui uscì. Quella volta lì ho fatto tutta la giostra da solo. Che impegno e tensione dà il ruolo del famiglio? Essere lì, aspettare la carriera del giostatore, con tutte le attenzioni del caso, perché non si può sbagliare nulla nel fermare il buratto, nel coprire il tabellone, nel portarlo al cancelliere. No, non ti devi muovere. Io avevo i primi anni specialmente che avevo gli occhi puntati addosso, perché prima le famiglie erano tutti un po' furbi, quando arrivavano i cavalli degli altri quartieri un pochino, o si spostavano un po', o facevano finta di scivolare. Io avevo preso il via, mi giravo verso il buratto e tenevo gli occhi chiusi, finché non tenevo il tonfo, non sentivo il tonfo, non mi muovevo. Proprio per paura di fare un movimento sbagliato nei confronti di qualche quartiere. Sì, infatti sono rimasto di 25 anni senza che nessuno abbia mai detto niente, anzi penso che l'avete stimato di tutti. Nessuno ha mai avuto da ridire. Ha fatto il nome di Mauro Viroli, che tu Dario conosci bene, anche perché appartiene al tuo quartiere, ai colori del tuo quartiere. Che persona è Mauro? Mauro al quartiere non è una sorta di istituzione, perché io sono entrato nel quartiere che erano i primi anni 90, quindi 91-92. Ovviamente ce l'ho trovato, al tempo lui se non mi sbaglio era consigliere, per cui ci ha cresciuto, a tutti noi ragazzi della nostra generazione, Mauro ci ha cresciuto. Persona estremamente simpatica, di poche parole, delle volte non capivi se ti faceva una battuta oppure era serio, era proprio questo che era divertente di Mauro. E fra l'altro l'ho vissuto anche tanto come famiglio, perché ricordo, ormai sono passati tanti anni, quindi qualcosa si può dire. che ogni tanto quando magari si faceva un buon punteggio e incrocevamo lo sguardo, diciamo che dai, qualche segno ce lo faceva. Il sorriso negli occhi si leggeva. Si leggeva il sorriso negli occhi, sì. Andrea, una settimana in piazza nel ruolo di famiglia è faticosa, perché spesso e volentieri se ne è parlato durante le prove. Quanto è faticoso per uno che ricopre quel ruolo fare tutta la settimana in tutto quell'arco temporale in cui c'è da fermare il buratto come il giorno della giornata? È tanto faticoso, è tanto perché te inizi, non è che fai solo, te inizi da lì alle tre e mezzo e vai via un quarto alle otto, perché dopo ritardi, su ritardi, è prove, è tanto faticoso, è un impegno grande, è un impegno che chi lo fa, lo fa per passione, come ho fatto io, sacrificando le ferie, perché te il giorno a lavorare non ci vai, ma per andare in piazza. Dario, l'accortezza del capitano nei confronti del famiglio quando sei in piazza, c'è un'accortezza oppure c'è una fiducia comunque limitata per persone serie che provate da tanti anni? Allora, per riprendere appunto quello che stava dicendo precedentemente lui, in realtà per quello che riguarda me non c'è mai stato nessun tipo di controllo, se si può chiamare così, nei famigli, perché veramente sono ragazzi che poi li vediamo anche durante le prove, tra le altre cose lui dopo Mauro ha avuto Simone Rogialli come compagno, quindi altro quartierista di Porta del Foro, e non abbiamo mai avuto bisogno di controllare i famigli, perché erano veramente diventati una figura professionale, facevano benissimo il loro lavoro e delle volte mi incantavo anche a guardarli perché hanno dei meccanismi che se sbagliano di un secondo veramente rischiano di prendere una bella botta, per cui assolutamente totale fiducia. Poi si passa di grado, diciamo così, e si arriva a fare il cancelliere della giostra. Questo invece che ruolo è? Tanto detto, è un ruolo più istituzionale, però un ruolo che lo deve fare per bene anche questo, perché non puoi sbagliare quando scrivi, specialmente. Il libro lo devi custodire come fosse una rilipia, diciamo, poi quando vai a farlo. Ti pensa, l'anno che mi hanno nominato, a me l'hanno dato dieci giorni prima della giostra. Era tutto da disegnare, da inventare. Tutto da disegnare, tutto da imparare a scrivere col pennino, per quello è tutto scritto col pennino e la china, gli acquirelli a scuola si erano mai presi in mano. Io, da quando ce l'ho io, ho cercato di fare il disegno che si riferiva alla dedica della lancia, all'artista o alla dedica a cui era stata fatta la lancia. Quindi c'è stato fatto il Duomo, c'è stato fatto lo stemma del Beato Gregorio, c'è stato fatto il pentagramma del Pietro. C'è sempre cercato... Però il primo anno, dieci giorni prima, per me è stata dura. Fa conto che la notte alle due ancora ero lì a fare i righini col pennino sulle brutte copie. E poi è un libro che non si può sbagliare, perché se si sbaglia quello è unico e l'errore rimane. Quello è la storia del Saracino, l'errore rimane per carità, però... Quanto è bello custodire o lavorare su un libro di questa portata, perché chi ama la giusta del Saracino, quella è la verità assoluta, e lì c'è scritto tutto, dal nome del cavallo, dall'età, dal punteggio, dal particolare, qualunque cosa sia successo, viene annotata lì. Ti sarà sicuramente successo di risfogliarlo, di rileggerlo, di guardarlo. Che emozione dà toccare e guardare la storia della giusta del Saracino da vicino? Per uno che è appassionato di giostra, poter sfogliare, come si chiama, il librone, è una cosa che ti emoziona. Quando vai anni indietro, che magari eri un ragazzino ancora, dici guarda qui, guarda, guarda che è successo, perché poi c'è segnato tutto. C'è segnato quando il cavaliere perde la lancia, quando si rompe, è tutto. Quello che succede in piazza viene segnato tutto. Poi, quando vai, anche io vado a scriverlo, per me nel senso, quando inizi ad andare col colore, che non c'è più il lapis sotto, è anche un onore scriverlo. Come quando vengono i capitani, i giostratori, che ci viene scritto il capitano, il rettore, che vengono a firmarlo, o il sindaco. Lo vedi che quando firmano è un vanto, insomma, mette la tua firma in quel libro, ti metti, rimane nella storia, rimane il tuo nome, rimane nella storia. Rimane nella storia per sempre, e quella è la storia. Poi però, Dario, il ruolo del cancelliere non è solo quello, perché c'è una fase molto delicata, che è quella in cui c'è di fatto il passaggio della lancia, dalla giuria al quartiere aggiustatore e viceversa, che comunque vada a livello tecnico, è una fase abbastanza delicata. Sì, in realtà è una fase molto importante. Fra le altre cose, era proprio la domanda che volevo fare a lui, proprio per capire esattamente come si svolge questa fase, perché mi ha sempre molto incuriosito, difficilmente io l'ho mai visto da vicino, per cui mi farebbe piacere appunto capire da lui quello che realmente è. Allora, diciamo, il cancelliere entra in campo quando viene il vice maestro, mi dà l'ok, allora io chiamo la lancia, chiamo la lancia dalla giuria, la giuria mi fa scendere giù la lancia, non la prendo dalla scala, vado sotto la giuria, perché se la prendi dalla scala, per scendere quella lancia, c'è il rischio di batterla da qualche parte, allora evitiamo questi problemi. Si scende giù, viene il palafreniere o l'ha detto al fantino che mi porta la spugna, la spugna ce la metto io, perché la lancia non va toccata. A quel punto viene il vice maestro, io gliela metto nell'Elsa, e lui mi dà l'ok, io a quel punto, quando l'ha presa, io a quel punto lascio la lancia, lui va giù al pozzo, e io rimango nell'Elsa, finché il giostatore, giù al pozzo, non ha preso la lancia, perché finché non ha preso la lancia, diciamo, quella ancora è compito del vice maestro Emile. Quando il giostatore ha preso la lancia, vuol dire che lui è pronto per partire, io aspetto su dopo, può capitare di tutto, però a quel punto, diciamo, il nostro compito lì è finito. E questo è, diciamo, quello più tranquillo, perché prende la lancia, mette... Quello più... È quando il giostatore ha colpito il buratto, perché lì, io mi allungo tutto, cerco di... Mi scelgo quasi a quella scala, e gli dico sempre, vieni qua, dalle me la lancia, perché spesso capita che la lancia viene data su a Grotti, a Romano, ma la lancia, da regolamento, devi prendere il cancelliere, e quindi tutte le volte non la dare a lui, dalla me, guardo il giostatore, gli dico sempre, stai calmo, sono qui io, te vieni avanti con calma, se sei stato il tempo che vuoi, porta la lancia a me, quando sei qui avvicinati, non ti prendo... Sto fermo, un mobile per non spaventare il cavallo, quando arrivo lì, mi muovo lentamente, prendo la lancia, gli dico vai, l'ho presa, perché se lui la lascia prima e cade, va a spiegargli a te se l'ha lasciata lui o lo perzo io. Che tra l'altro comunque è una fase al di là delle battute che non si saprebbe dare la responsabilità a chi e perché e comunque guarda ci sarebbero quattro quartieri che discutono a prescindere sia quello che aveva la lancia che gli altri tre. Però ci sono stati anche durante le gioste delle fasi particolari in cui comunque guarda è stata molto molto problematica la riconsegna della lancia. Sì, quello è capitato un anno mi ricordo che io ancora non ero cancelliere ma c'è un cavaliere era giù e non ce la faceva venire su. Mi ricordo c'era il dottor Migliorini che l'accompagnò col cavallo quasi su. quasi a riconsegnare la lancia che poi penso che sia anche possibilità da regolamento che il vice maestro possono accompagnare addirittura parlandoci una volta mi dissero che se se me lo ordina il maestro io posso andare a prendere la lancia c'è il giostratore il maestro il maestro io senza ordine è come quando c'è quando viene toccata una lancia che dopo c'è da rifare l'estrazione io lo so quello che aveva fatto però deve essere la giuria il maestro dimmi guarda ora devono sorteggiare la lancia la A, la B, la C o la D no si prende la lancia che viene dopo il regolamento lo conosco perché lo studio e mi piace eleggerlo anche però diciamo ci sono delle gerarchie da rispettare ogni ruolo ha il suo compito è giusto nel rispetto dei ruoli che ognuno faccia il proprio proprio dovere in campo e l'ingresso in piazza invece con quel librone che sensazione dà rispetto al ruolo del famiglio o al ruolo del musico del figurante l'ingresso in piazza si può dire che ho fatto due passi avanti perché prima ero dietro allora guarda io sono più di 30 anni che mi resto ma ti dovessi dire che ogni volta che entro in piazza io ho quella scarica di brivido quando entri è così chi piace la giostra ogni volta che entri è come tu entrassi la prima volta è una sensazione particolare tra l'altro tu sei babbo di due figli una giostra l'hai fatta anche con il figlio in piazza quella invece che sensazione è entrare in piazza con il figlio anche se con un quartiere e quindi tu istituzionalmente fai il tuo ruolo il tuo compito però vedere il proprio figlio in piazza con i colori del suo quartiere che sensazione ti ha dato guarda era la giostra che io ero esordiente come cancelliere quindi già ero teso così il mio figliolo che era paggetto io l'aspettavo su alburato nel senso da mi parte però mi facevo vedere che c'era sempre un bambino poi esordiente io esordiente lui vittoriosa vittorioso penso che uno più di così non potrebbe chiedere ma gioia non potevi non potevi ricevere Dario abbiamo parlato del famiglia abbiamo parlato del canciare sono tutte quelle figure particolari che spesso non gli si dà giusto rilievo risalto per la passione per come diceva Andrea anche il tempo che mettono a disposizione per la manifestazione a titolo gratuito come fanno come fanno tutti perché c'è l'amore per la giostezza raccino che va a prescindere avanti a tutto a tutti sì io fra le altre cose ho avuto la possibilità il librone di quando appunto Mauro era aveva quel ruolo di 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 tantissimo come ha raccontato lui lo svolgimento della consegna della riconsegna della lancia perché dal suo punto di vista alla fine non si era mai saputo quindi quello che prova lui quando in realtà lui dice io c'ho una responsabilità perché ridendo e scherzando però se cade una lancia in quel momento lì che succede e io delle volte lui l'ho visto veramente allungarsi e prendere la lancia quasi dal gommino per agevolare il giostratore per cui ecco mi rendo conto che sono figure che delle volte rimangono sono statiche perché sono figure statiche che però veramente hanno il suo enorme fascino dentro la giostra questo librone poi dopo dove dove viene tenuto quello io lo riconsiglio solo all'ufficio all'ufficio del comune viene viene tenuto da loro penso dove tengono tutti i vestiti potrebbe essere un luogo di conservazione questo libro ad esempio dove c'è il museo della giostra il palazzo comunale potrebbe essere una cosa importante poter ammirare non voglio dire sfogliare perché poi dopo si potrebbe deteriorare e sciupare però quantomeno ammirare un patrimonio così così bello e importante secondo me quello quando faranno il museo secondo me è da mettere lì nel museo fra l'altro io dico anche che c'è rimasto due anni poi il libro è pieno ce ne vuole uno nuovo quindi questo qui secondo me sarebbe proprio da mettere lì in mostra perché è bello è bello Andrea si chiude questa intervista l'ho chiesto un po' a tutti gli ospiti che sono venuti qui non è solo giosta perché prima della giosta cosa ancora più delicata c'è l'estrazione delle carriere perché è capitato anche che qualche pallina si è aperta dentro al sacchetto prima di essere tirata su e lì cosa si fa? lì sono fortunato che ne è capitata a me perché è venuta fuori una polemica io le controlerò venti volte venti volte negli ultimi cinque minuti prima di guardarle ora gli è stato trovato una guarnizione che non le fa girare per fortuna ma anche quella non penso faccia piacere ora ti ha ricordato l'estrazione a me era passata anche di mente l'estrazione delle carriere con il paggetto lì accanto tra l'altro un bambino spesso l'entiera all'esordio perché non ha mai indossato il quartiere tutta l'emozione eccetera poi c'è anche oramai l'estrazione è talmente particolare talmente ricercata dai quartieri che in base alle possibilità cercano sempre la strada migliore per poter affrontare la piazza dalla posizione più gradita ad essi lì tra capitani rettori paggetti ci sono aneddoti particolari che ad esempio si vede spesso che c'è capitano che scende prima che ci sia l'annuncio dell'araldo perché c'è un segno da parte di qualcuno oppure no lo sai che è un momento che non ci ho mai fatto caso perché in quel momento devo controllare le palline con i colori poi c'è anche l'estrazione dei numeri delle lance da tirare e da mettere nella scatola dove viene consegnata la magistratura devo preparare il libro a far firmare i rettori quindi è uno di quei momenti che io ho più da fare di tutti quindi sei concentrato nel lavoro e non guardi questi aspetti l'ultima domanda e poi dopo ci congediamo dopo tutti questi anni dopo 30 anni da figurante in più ruoli qual è il sogno nel cassetto di Andrea Sisti per un domani per il futuro se ce l'hai ancora oppure hai realizzato tutto quello che potevi realizzare nel mondo della giostra del Saracino ma guarda io io sono contento così sono contento che mi sono vestito sono vestito con se il mio figliolo il mio figliolo ha vinto quando era paggetto ho fatto tanti ruoli che mi sono piaciuti tutti una cosa che posso dire è che mi durirà la salute e che possa continuare così grazie grazie